Aveva sfondato il vetro del distributore di snack e bibite, ma si è procurato una grave ferita al braccio che gli ha prima fatto perdere i sensi e poi lo ha dissanguato. È morto così, secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, un giovane di 33 anni che si era introdotto all'interno del liceo Sciascia di Canicattì per commettere un furto, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori. Il cadavere, immerso in una pozza di sangue, è stato ritrovato questa mattina dal personale scolastico e subito sono intervenuti gli investigatori dell'arma per effettuali rilievi. La procura di Agrigento ha disposto l'autopsia sul cadavere per ricostruire con precisione tutti i dettagli.